Ciao, Belice, per gestire l'esperienza per guidare l'assessore iniziale in emergenza, è stato il secondo progetto coordinato dal servizio nazionale italiano. Belice è anche il nome di una regione siciliana hit by a drammatico durante il 1960 che era chiuso a gestire l'attività del progetto. A partecipare in considerazione sia la previsione delle guadalini INSERAG e dei risultati dell'ESER, Belice studiò una metodologia possibile per fare un'assessore iniziale in un'area ASR-1 di un evento sismico di un evento sismico iniziale in un'assessuale. Inoltre, un manuale di ASR-1 e di un guadalini di ASR-1 sono stati assaggiati. Questi strumenti sono aspettati a approcciare un approccio metodologico per le autorità locali e gli autori che interviene in un'area che interviene in una grande area affacciata da un disastro. Il guadalino è provare un codice di decisione di creare per essere implementato nei passaggi dell'emergenza con una approccia sistemica basata sui variabili scenari sui rischi evoluzionari e le caratteristiche organizzazioni dei attori nel campo dei autorità locali, dei gestori di emergenza e dei gestori tecniche e delle usate. La proposta è stata testata nel esercizio final nei ruini di Poggio Reale Trapani dal 31 di mei al 1 di giugno 2019 Grazie a tutti per la sua attenzione.